Un viaggio nella storia italiana, europea e mondiale attraverso la riflessione sul libro Secretum, edito da Solferino, scritto dal giornalista Massimo Franco, editorialista e commentatore del Corriere della Sera. Il dialogo ha avuto come protagonisti l'autore del libro, il vescovo di Acireale e presidente della Cesi, Antonino Raspanti, il giornalista Salvo Fallica nel ruolo di moderatore e conduttore. L'evento, organizzato dalla diocesi di Acireale, in collaborazione con il Comune Acese e la Fondazione Maria Barbagallo, si è svolto nel cuore del barocco di Acireale, nel suggestivo scenario di Largo Giovanni XXIII, dinanzi al Vescovado. I saluti istituzionali sono stati affidati all'assessore alla cultura della città di Acireale, Vincenzo Di Mauro, che ha messo in evidenza l'alto profilo culturale della serata e il rilievo dei protagonisti. La conversazione si inserisce in una serie di incontri ideati dal vescovo Raspanti, che nel corso degli anni hanno proiettato in una dimensione culturale nazionale la città di Acireale, una Atene etnea. Vanno ricordati i dialoghi con il presidente Giuliano Amato, con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, con l'economista Marco Magnani, solo per citarne alcuni. Il dibattito con Massimo Franco è stato dunque incentrato sull'analisi del libro Secretum, intervista con Monsignor Pagano, Papi, Guerre, Spie, i misteri dell'archivio Vaticano svelati dal prefetto che lo guida da un quarto di secolo. Massimo Franco ha avuto la possibilità di raccontare e svelare una parte dei segreti racchiusi nel bunker, ovvero il deposito sotterraneo lungo 86 chilometri lineari, che ospita i documenti più riservati. Nel dialogo con Franco e Raspanti si è parlato anche delle trasformazioni della globalizzazione, della comunicazione e del digitale e delle necessità di nuove modalità di comprensione della realtà e di nuove visioni del mondo. Un'unione di valori etico-sociali e di innovazione sempre nel solco della difesa della dignità umana, della democrazia, della libertà, dell'impegno sociale e solidale, del rispetto del prossimo.